Un saluto a tutti i lettori di TecnoAndroid C'è appena arrivato da Midasore.com il tablet HD89 Mini 3G Andiamo a effettuare l'unboxing Si tratta di un tablet 7 pollici In questo caso di colore bianco, ma lo potete trovare anche in nero Molto carino, poi vedremo in dettaglio Andiamo a continuare l'unboxing Di sotto della confezione troviamo un pannetto per pulire lo schermo Una pellicola protettiva Vediamo cos'altro ci riserva la confezione Ah, molto carina Una flip cover Molto molto bellina, molto carina veramente Con chiusura A calamita Dovrebbe andare in questo modo, credo Si In modo che poi abbiamo anche l'apertura per la fotografia Molto molto carino Continuiamo con l'unboxing All'interno troviamo chiaramente L'alimentatore USB Il cavo dati USB, micro USB, antiattorcigliamento Analogamente per le cuffie Come anche se sono antiattorcigliamento Con cuffie in-ear Abbiamo la batteria Da 4800 mAh Interessante E per concludere Ovviamente abbiamo una piccola manualistica Un manuale d'uso In inglese Si, solo in inglese La forma è davvero molto carina Un tasto centrale Abbiamo qui La fotocamera anteriore Due sensori di prossimità Sensori di prossimità e di luminosità La fotocamera posteriore Con flash LED Due tasti, questo sarà del bilanciere e del volume Tasto di accensione Jack Da 3,5 mm Abbiamo le casse per audio Nella parte inferiore Vicino Nella parte centrale Chiaramente La presa micro USB Andiamo Ad aprire Vediamo al di sotto Che cosa abbiamo Si tratta di un Dual SIM Come vedete con SIM Normal più supporta la micro SD Devo dire Che per essere Un Tablet Che ha Chiaramente Avendo le due SIM Funzioni telefoniche Cinese Devo dire I materiali sono molto molto buoni Anche il policarbonato È veramente Di ottima qualità Seriamo la batteria Così vediamo di accenderla Mi confesso Che mi incuriosisce Molto Lo sto accendendo Per la prima volta Insieme a voi Si è già acceso Veramente veloce Dimenticavo di dirvi Che si tratta Di un quad core Veramente Molto molto carino Per ora è tutto Lo testeremo Nei prossimi giorni Ve ne daremo Un rendiconto Completo Per ora è tutto Un saluto a tutti i lettori Di TecnoAndroid.it Da Afterburner